Aller, rete, ha segnato Aller, Germania 1, Inghilterra 2 Consultazione di cronometri, Moore avanti, fa segnare l'arbitro Un'altra palla per Hertz, ultimi minuti di entusiasmo Hertz, rete 4 a 2 per l'Inghilterra, ha segnato Hertz Lo stadio in delirio, agitare di bandiere, canti e animo vibrante in tutti con la fine L'Inghilterra ha battuto la Germania per 4 a 2, vincendo l'ottava edizione della Coppa Rimini Grazie Grazie